Ragazzi oggi farò questo percorso località Marileva 900 quindi dove ho la casa quindi ce l'ho vicino casa e superata la partenza da telecapia Marileva 900 si imbocca sulla destra una stradina asfaltata che sale verso Residence Hamba e Gardene si prosegue fino a un piazzale da qui deviando verso destra si raggiunge l'area picnic 1000 metri cioè 1000 metri da casa mia praticamente ed è 30 minuti più o meno vi assicuro che è ripida vi assicuro che è ripida ma la facciamo Ecco mi sto camminando adesso vi faccio vedere il cartello cartello di quello dove devo raggiungere è pesantissimo perché guardate la pendenza questo è il cartello ovviamente il plan de gruntaio area picnic taio vado su e poi torno giù dall'altra parte non tengo il cellulare acceso perché ho poca batteria ma massacrante a piovere sono sceso guardate da lassù lassù passando dai boschi pessima idea tra l'altro perché ancora più ripido che di là in realtà ho fatto un giro non molto largo perché guardate lì e lì c'è la funivia la cabinovia dove dietro ho fatto la rampa che mi portava appunto all'area picnic ho anche male alle gambe mamma mia ragazzi sta piovendo infatti sono qua prenderebbe il fresco e niente faremo un po farò un po di non di sentieri ma di queste cose qua le farò un po oltre che portarvi anche in mezzo ai boschi proprio per cercare funghi e già due giorni che sto cercando funghi non ho ancora registrato niente ma prossimamente farò anche qualche video dove vi spiego quattro qualche piccolo voglio dire segreto in realtà qualche piccola nozione da comunque che ha fatto cinque anni di micologia vi può aiutare a riconoscere i funghi buoni funghi meno buoni in montagna quest'anno deciso di far così sentieri poi qualunque cosa faccio ci faccio un video a parte perché ho visto l'anno scorso che il video unico non ti non attira no non la gente non si diverte così magari avete l'occasione di goderva di più adesso stremato perché ragazzi è una camminata che credo che duri mezz'ora mezz'ora non lo so però vi assicuro che sono cotto sono però veramente stremato perché la rampa è ripidissima adesso comincia a piovere bene quindi fortunatamente ho la casa qui vicino e mi raccomando continuate a seguire like condividete gli video like al canale decidiamo i prossimi video mi raccomando anche qui dalla val di sole